Il progetto Grande Sarno, l'opera che dovrebbe risolvere il problema lagamente e avviare il disinquinamento del fiume, è fermo al palo. Il Tar dopo un ricorso prodotto dal Comitato Novasche Noinquinamento del Comune di Nocera aveva sospeso i lavori con un'ordinanza cautelare. I lavori erano stati poi sbloccati grazie alla sentenza del Consiglio di Stato che accoglieva il ricorso della Regione Campania, dell'Arcadis e del Comune di Scafati. Il Comitato era in attesa di una pronuncia da parte della Giunta regionale guidata dal Governatore De Luca sul progetto. La Commissione Ambiente circa due mesi fa ha rimandato il progetto alla Giunta in quanto ritiene che debba essere rivisto per le problematiche ambientali da noi segnalate. Ad oggi stiamo aspettando che la Giunta De Luca si pronunci e noi auspichiamo che stralci dal progetto le vasche di laminazione e si vada avanti con la messa in sicurezza, quindi con il rifacimento degli argini, ampliamente della sezione idraulica e dragaggio che sono fondamentali per la messa in sicurezza del territorio. Anche dopo che è stata chiusa o soppressa l'Arcadis è tutto in stand-by in attesa della pronuncia sul progetto, quindi non sono state indette né gare d'appalto, sono state state solo due conferenze di servizio per l'8.1 e l'8.2 che riguardano quindi la seconda foce a Torre Annunziata e le conferenze di servizio l'8.2 che si sono conclusi con l'esito positivo e quindi riguardante anche le vasche di laminazione e non c'è l'inferiore, non è stata ancora indetta l'8.3 e questo eventualmente perché l'Arcadis non ha più un ruolo esecutivo.